inizia oggi con la prima domenica di avvento il nuovo anno liturgico la parola avvento significa venuta il tempo di avvento dunque è tempo di attesa attesa di qualcuno che deve venire ma chi deve venire chi noi cristiani dobbiamo attendere le letture proposte oggi dalla liturgia della parola ci aiutano a dare una risposta alla nostra domanda partiamo dal vangelo gesù racconta la storia di un uomo che prima di partire e lasciare la propria casa che cosa ha fatto ha dato il potere ai suoi servi a ciascuno il suo compito gli ha ordinato al portiere di vegliare gesù inoltre aggiunge vegliate dunque voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati quello che dico a voi lo dico a tutti vegliate ebbene questa affermazione di gesù sta ad indicare che nessuno di noi sa a che ora arriverà sorella morte arriverà alla sera arriverà a mezzanotte arriverà al canto del gallo arriverà al mattino nessuno di noi lo sa sappiamo solo che essa arriverà e giungerà all'improvviso per questo gesù ci invita a vigilare affinché non ci trovi addormentati purtroppo noi cristiani siamo addormentati infatti vi sono alcuni che si lasciano assorbire dalla fatica di procurarsi beni materiali altri che induriscono il cuore e ciò li porta all'egoismo all'odio altri ancora che tirano a campare e vivono giorno dopo giorno come capita e allora quando il signore arriverà troverà ahimè molti addormentati vedete noi abbiamo ricevuto da gesù un grande dono il tempo e il signore si aspetta che lo si occupi bene santa caterina da siena diceva ai suoi contemporanei correte correte il tempo è breve ciò significa che i cristiani non devono perdere tempo ma devono essere sempre attenti e vigilanti ed essere come scrive san paolo nella prima lettera ai corinzi la seconda lettura irreprensibili nel giorno del signore nostro gesù cristo però noi sappiamo di essere peccatori di essere fragili in quanto tali non dobbiamo scoraggiarci non dobbiamo arrenderci quanto cadiamo perché perché dio e amore dio e misericordia dio vuole la nostra salvezza vedete dio ci ama di un amore immenso un amore infinito un amore sconfinato e questo amore ce lo ha manifestato ce lo ha dimostrato attraverso il suo figlio gesù questo figlio che è venuto nel mondo questo figlio che per opera dello spirito santo si è incarnato nel grimbo della vergine maria e si è fatto uomo questo figlio che è stato uguale a noi in tutto fuorché nel peccato questo figlio che è morto sulla croce per salvarci e grazie alla crocifissione di cristo alla sua morte in croce noi siamo stati salvati e allora non perdiamoci d'animo quando cadiamo non perdiamoci d'animo di fronte alle nostre fragilità alle nostre cadute alle nostre miserie alle nostre debolezze non scoraggiamoci mai perché perché come ci ricorda il profeta isaia nella prima lettura il signore è il nostro padre il signore è il nostro redentore infatti isaia scrive tu signore sei nostro padre da sempre ti chiami il nostro redentore perché signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema ritorna per amore dei tuoi servi se tu squarciassi i cieli e scendessi ebbene i cieli si sono squarciati il signore è disceso si è fatto uno di noi ci ha salvato e noi lo attendiamo continuamente noi attendiamo il signore gesù agnello innocente che prende su di sé le nostre colpe per lavarle nel suo sangue e allora con la chiesa anche noi acclamiamo dicendo vieni signore gesù maranata